Avevamo incontrato Martina Sondrio, la sua era stata una delle testimonianze più emozionanti dell'importante convegno nazionale organizzato all'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti in occasione del settantesimo anniversario della sezione di Sondrio. Martina Rabolini, giovane nuotatrice di Rho, in questi giorni è impegnata a Tokyo, alle Paralimpiadi. Ha centrato le finali dei 400 stile libero, dei 100 dorso, dei 200 misti, migliorando i suoi record personali. speciale, ci aveva spiegato, il suo rapporto con l'acqua. Il nuoto quanto è importante nella tua vita? Diciamo che il nuoto è una cosa fondamentale nella mia vita, è sempre stato un punto davvero cardine e rimarrà per sempre un punto fondamentale per esprimere effettivamente che è Martina e per far vedere agli altri appunto quanto valgo e anche per far capire a tutti che nulla è impossibile e tutti possono raggiungere degli obiettivi grandi anche con delle difficoltà insomma importanti. A che età hai iniziato? Io ho iniziato da davvero piccolissima, ho iniziato a fare i corsi quelli per i bimbi a tre mesi, grazie ai miei genitori e poi vabbè è stato amore a prima vista con l'acqua e agonismo ho iniziato quando avevo dieci anni, quindi è metà della mia vita che faccio agonismo. Hai vissuto anche un'esperienza olimpica a Rio, settimo posto in finale, vogliamo ricordare quei momenti? Allora, la finale olimpica è stata una cosa straordinaria, emozioni enormi e davvero tantissime emozioni che rimarranno sempre nel mio cuore e la finale olimpica è il sogno di ogni atleta, sono davvero felice di averlo raggiunto e spero che ce ne siano altre. Conociamo un messaggio ai ragazzi, ipovedenti o non vedenti, che non praticano sport? Lo sport, a tutti i ragazzi, dico che comunque lo sport è importante e serve per, prima di tutto, conoscere anche il corpo, come ci si muove, conoscere se stessi dal punto di vista motorio, però è anche un aiuto per conoscere se stessi dal punto di vista psicologico ed emotivo e da anche tanta integrazione perché con lo sport io comunque ho potuto conoscere moltissime persone e coltivare delle amicizie che so che non si fermeranno solo al panorama sportivo ma anche nella vita.